Maura Viceconte purtroppo è morta, era una famosa maratoneta e mezzofondista italiana. Era nata nel 1967, stando a quello che sarebbe riportato su Wikipedia, ed era davvero una grande donna, una campionessa azzurra in piena regola. Si spegne, purtroppo è morta, non aggiungo altro perché ovviamente la privacy deve essere rispettata, però su Wikipedia è presente una pagina a lei dedicata in cui potrete andare a vedere, mai a leggere tutte le relative informazioni che la riguardano. Andate a leggere se vi interessa, io per ovvia ragione di privacy termino qua il video, questo video non vuole, ripeto, non vuole ledere la sua privacy, ma solo informare eventuali persone che purtroppo Maura Viceconte è morta, è passata a miglior vita. Questo video nasce solo per questo motivo, non per altre ragioni. Fatemi sapere che cosa ne pensate, datemi la vostra opinione personale e un caro salutone a voi tutti. Se questo video non dovesse andare bene, quindi andasse a violare la privacy altrui, basterà che un amico, un'amica, un parente mi manda un messaggio al mio indirizzo di posta, che è narratore italiano, chiocciolagmail.com, e provvederò tempestivamente a eliminare, quindi a cancellare questo video qua. Ma se non mi arriveranno niente, significa tacitamente questo video può rimanere qua. Da Maiana, oggi mi trovo a Maiana, è tutto, un saluto e al prossimo video.